Ragazzi bentornati nel canale, sono io Martian98Solito e oggi andiamo a fare qualcosa, un po' un mix con la guerra fondaia, la warmonger Mi sono divertito anche se non è andata troppo bene, però questo non ci fermerà perché noi perseveriamo all'inverosimile Perché è raro umano, perseverare diabolico, per cui sì, direi che andiamo direttamente al video, io vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace e è bello Ragazzi abbiamo un tizio a notorietà 911, caspita, complimenti, purtroppo abbiamo un bot, vabbè, non importa Siamo nella scheggia, che non è il palazzo, quello là a Londra, ma è una mappa di forno per noi mortali che non vanno in vacanza perché c'è il covid Mi manca andare in vacanza, l'anno scorso dovevo andare in Portogallo con una persona e invece un bel niente, invece un bel niente, purtroppo Ah, no, no, te lo devi morire, no, ma dai, ma che fortuna che ha preso la cosa Posso anche io vendetta, please? Ok, ce l'abbiamo fatta Eh ragazzi, che master wormonger sono E niente raga, quindi niente vacanze, io sono tre anni che non vado in vacanza Per un motivo o per l'altro non sono mai riuscito a farmi delle vacanze da qualche parte Quest'anno, cioè l'anno scorso, covid, quest'anno covid e cassa integrazione, quindi non so se avrò i soldi per fare qualcosa Io spero di sì, ovviamente E io sono... ah, rompino E via Vado a prendere C Ho anche la cosa qua In teoria non funziona più con gli wormonger, però mette pressione, comunque quindi la userò Minimì Ok Uh Che roba Ha sbagliato la cosa qua, vabbè E questo... dai Vabbè, ovviamente niente esecuzione, perché c'erano i minim, ma non importa Uh, che famo? Andiamo a curarci, abbiamo due barre di vita, quindi ci curiamo Ci inculiamo? No, non ci inculiamo Abbiamo ancora il bot? No, sì, abbiamo ancora il bot E Bulletton, che è uno di loro, ha lasciato la sessione, quindi ora siamo in pari Voi ragazzi, avevate programmi Per... Non so, per le vacanze, o per le cose là Hm? Sono... sono curioso Di sapere più che altro se sono l'unico sfortunato Oh no, potevo fare un side, invece ho fatto quello lì, che non aveva troppo senso Ti ho visto che option selectina che sono Aia, la vedo male Eh Mamma mia Grandissima Valkyria Grandissima Non offendetevi, raga, se mi perdo ogni tanto nei discorsi È che... così Devo anche seguire il gioco, anche perché stiamo facendo abbastanza bene Ok, vediamo di prendere... abbiamo anche già preso la terza feat Caspita Ma effettivamente non è per niente un brutto personaggio da... Da dominio il Wormonger, quindi... Ci sta, ecco Sto scappando, e invece... Ah! Ma dove vai, stronzo? Eh Scappi da nessuna parte Why are you running? Ah, un bot, che bello Ci piace il bot Il bot ci piace... Ah no, no Please don't! Scappo, aiuto! Oddio, ho paura, anche se è un bot ho paura, non dovrei Però ho paura Oddio santo È comunque un griffone, raga Ti prego di morire, ok Eh... Ma là ce n'è uno su A Non so quali sia il minion clear del Wormonger, ovviamente Sono... Talmente incapace in certe cose, come sapete Eh... Vado su B Perché su A da solo non ci vado, ho troppa poca vita C in teoria la prendono da solo I minions Eh, e via Quale momento migliore? Non c'era un momento migliore per usarla, penso Perché mi ha lanciato contro un... Un urma... Mi ha lanciato... Ah, no, no, aiuto! Mamma mia Un mostro, Dio santo Io voglio fare l'esecuzione nuova che ho preso Vi prego Fatemi fare l'esecuzione nuova che ho preso Escono dalla rotta Tanto meglio, tanto meglio Mi curo, mi curo, mi curo 12-0 Di dove parliamo? Allora, Dio santo, ho preso paura Uh, ok Eh, buon perry Oh no, aiuto Help me Sono Lord Ridel Mamma mia Grandissimi Che cavolo Che compagni No, no L'esecuzione Niente, raga Non ho fatto vedere l'esecuzione Quella lì Nuova Che hanno messo Dell'evento Vabbè Che partita Mi hanno avuto anche degli ottimi compagni di squadra Questo è È strano Guardate che tondo 700 punti Tondi tondi Next one Ah, immaginate aspettare un quarto d'ora una mischia E poi, niente Due bot E direi che si esce Eh, Dio For Honor Vabbè, ci sta sempre un bot E niente Eh, oggi Nelle mischie Sono con i bot Abbiamo una Un warmonger in tema Direi Oh, pardon Cos'era Vieni, vieni Uh, uh Bello, bel perro Vieni qua Eh, vedi di nuovo Esecuzione Faccio vedere questa Se il bot di Lann Me la Era quella che volevo farvi vedere Prima, chiaramente Durante il domenio, intendo Bang Bella Fighissima Se esecuzione mi piace Un fracco Eeeh Quanto siamo fighi Insieme, eh Alien Technology Eh, eh Scusa Ragazzi, mi sono nerdato un pochino Durante la festa degli XP Andava Scusa Sei cattivo Guardalo, guardalo Sei proprio un bot Sei proprio un bot Ti prego Che cos'è sto bot? Che cos'è? Guardatelo Che mi ha preso lui Devi Ti prego Aiuto Che cosa? Non lo voglio Non lo voglio combattere Questo bot Muore No Please No 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 Oh oh Posso Posso vincere Ti prego Ti prego Ok Eh, non me la farà mai fare Vero il tizio? Invece sì Wow Wow Poco guerrigliera Quella lì Per essere Una Come si chiama in italiano? Guerra fondaia Terribile Eh E invece Oh, il Perry Quanti Perrys Perrys I am scapping Eh Come back Come back Come back Continuerò a fare Questa esecuzione Perché è bellissima Piace tanto tantone Al Marcio Marcione Piace tanto tantone Questa esecuzione Attenzione Eh Perché non vi iscrivete Il canalone Dovrei chiudere il canale Dopo quello che ho appena detto Comunque Perché continuo a prendermi Su quello Eh No Eh sì Ho finito tutta la stamina Nice Ok Però no Mia Allè Due attacchi a zona In combo Sono una cosa bella Non voglio morire Oh no Ma perché Sto tizio C'ha I pesanti Che partono Prima Cioè Li fa prima E quindi Continua a prendermi Vabbè dai Non dovrebbe avere tanta vita No dai Ce la può fare Il nostro compagno Dai Abbiamo fatto anche Abbastanza bene Ci sta Dai 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 Vai gladiatore Facciamo il tifo ragazzi Ma qua non prende niente Chiaramente la guerra fonda Che è successo a quel Perry È stato strano Ah Ah eh Ora dire che ci faremo Un round in più Va bene Va bene Lo accetto Lo accetto Sto cercando di non farvi sentire I miei rigurgitini Ho appena pranzato Quindi No di nuovo il bot No Come fa a prendermi Ogni volta Prima lui Cioè È un attacco di merda Quello lì Per favore No No ti prego No Ma non ci sto credendo Che cos'è sto bot È bravissimo Non ci credo Fa option select Ragazzi No Fa option select Fa No Vabbè Ma è Sto bot è un figo Cioè Cosa devo dire È un figo Se è un figo È un figo E niente È uno di vita E lui Ebbè anche lui È uno di vita Chiaramente Ehm Dio santo Oddio santo Quel bot è terribile Non si fa punire una volta Ok Concentrati Concentrati Perché sul 2 a 2 Non può succedere Una cosa del genere Eh esatto Eh esatto Nini Eh Ma guardatelo Ma guardatelo Che fortuna Tutte le volte Che l'ho fatto io Dentro su pesanti Niente No vabbè Non può perdere Il nostro compagno Non deve perdere Non può perdere Non puoi perdere Non puoi perdere Non puoi Ok No vabbè Ti prego Ti prego Ti prego fai l'esecuzione Sì Sì Mamma mia Anche un'esecuzione lunga Vabbè Il Wormonger di là Ci avrà tutta la vita Però Che bisogna fare Se ho fatto il miracolo Io prima Lo può fare anche lui Dai Io mi fido Niente Si è già preso Un coso in faccia E Un coso Un pesante È andata bene Eh Madonna Però un point con i perri Sto Wormonger qui Ha carburato durante La partita E Il nostro compagno Ha quitato Perché Probabilmente Si è scordato Di mettere il sale Nell'acqua della pasta Ciao Abbiamo una Shamanan 70 Quindi sarà dura Non diciamo niente Siamo stati molto aggressivi È stato È stato divertente Devo dire Non me l'aspettavo Contro la sciamana Di divertirmi Che ne pensate Giovani Del mio Fashion Del Warmonger Della Warmonger Pardon Ma mi piace abbastanza Non sono convinto Del mantello Non tanto per il colore Per il resto Ma Se mettere Un disegno Oppure Lo sbalzo Con il lupo Top Niente No No Ho fatto il parry Ma al posto di fare il parry Ho fatto il parry Santo Eh No No Ok 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 Niente Niente Aveva capito che andavo per il parry Quindi ha fatto una cosa abbastanza corretta Non ci credo di essere stato calmo Mentre Doveva fare quel morso Sono riuscito a schivare Proprio quello giusto Va bene Va bene Va bene Shimana Tosta Irreagibile Quindi Va bene Mi prendo il trade Perché ovviamente Non viene Ok Ha fatto perry Ci sta Vieni 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 No Niente Ah Dio santo Quante volte Può applicare Eh no È anche tornato fuori dal range Di Oddio Guardate come riprende vita Come riprende vita La shamana Tutto irreagibile No Dio santo Ci vuole tanta pazienza Eh Shamana credo sia L'assassino più forte del gioco Momento Direi Ciò che la rende forte È proprio Il sanguinamento Semplicemente E l'irreagibilità Nel poterlo applicare Perché lo può applicare Da qualsiasi parte E la velocità con cui lo applica È la stessa Della pacificatrice Che però invece lo può fare Solo dall'alto Quindi va Va indovinata No Tra l'altro Anche È una pessima Eh Continua Eh Perché c'ha anche tra l'altro Frame advantage Su Vieni qua Non l'ho potuto prendere L'ha fatto a seconda volta Ok Non ho Non ho stamina Quindi Ok Ci siamo presi insieme Quindi vabbè Guardate là Quella volta che ho pensato Lo facesse top Invece l'ha fatto là Niente raga Purtroppo Shaman è irreagibile Quindi Posso fare poco GG bro Eh Much fun Marzo Novantotto Di Mirano Che gioca For honor Ed ogni Due per tre Closciugocchi Lui lancia Un attacco A zona E Lui lancia